Ormai ex leghista, Darei ha detto che lei sarebbe un ottimo segretario della Lega. Ho fatto, penso, ormai decine di interviste in questi anni, perché ormai è un live motivo che ogni tanto ritorna a galla, dicendo che io voglio continuare a fare governatore di Francia Giulia, che non ne sarei all'altezza e quindi più di così non so cosa dire. Non mi interessa, penso l'ho fatto anche su un importante quotidiano nazionale, poco tempo fa l'appello al fatto che il mio partito, la Lega, ha come obiettivo quello di rimanere unita e portare avanti le battaglie che storicamente penso siano importanti non per la Lega ma per il Paese.